La blatta la prima cosa è che è l'animale più schifoso in assoluto e nonostante questo è quello più indistruttibile. Proprio per questo lui non può ignorare questo essere che in qualche modo va a rompere la routine della sua monotonia. È da quel momento che si rompe qualcosa e comunque lui insomma in qualche modo noi siamo obbligati a ignorare improvvisamente la routine cioè dimentichiamo i nostri doveri e iniziamo in qualche modo da quel momento in poi a prendere consapevolezza di noi stessi. Fino a quel momento aveva l'opportunità di vivere una vita infinita ma in realtà non era una vita. Anche se non ci fosse nessuna forza che ci sovrasta spesso ce la inventiamo proprio per poterci liberare dai sensi di colpa cioè è come demandare delle responsabilità a qualcos'altro in modo tale che questo possa sostituire anche le figure dei genitori qualcosa che in qualche modo ci ha sempre protetto e che una volta che cessa di esistere noi dobbiamo andare a cercarlo in altre forme. Alla fine cerchiamo sempre di trovare qualcosa che ci comandi. percorriamo una vita quindi ci sono dei paletti ben precisi che ci riportano a una sorta di destino lui ha la possibilità di fare delle scelte per migliorare o peggiorare la propria vita questa cosa la usa in una maniera maldestra cioè impaurito e viene spinto a un gesto estremo è il libero che improvvisamente gli viene dato e che lui non riesce a gestire in nessun modo. La scacchiera fondamentalmente è una metafora facile che serve semplicemente a limitare il suo raggio d'azione ha degli spazi dove ci si può muovere ma non si può mai uscire. Quello che volevo fare all'inizio era proprio eliminare qualsiasi riferimento sessuale perché in fondo l'idea iniziale era che non si capisse mai se fossero di due sessi diversi chi fosse maschio chi fosse donna se fossero dello stesso sesso anche perché comunque fondamentalmente non è importante questa differenza è importante l'interazione fra due esseri che hanno due esperienze di vita diverse. La fantascienza in questo ambito è una sorta di interfaccia che serve a rendere più accessibile il messaggio che probabilmente può risultare all'apparenza un po' troppo cerebrale quindi magari anche un po' faticosa da recepire. Il fatto che la città sia deserta non racconta niente di inedito cioè è la metafora di quello che succede un po' oggi dove tutti tendono a rinchiudersi nelle case e a vivere una vita virtuale ideale dove nessuno mette in discussione le nostre certezze e ci permette di sentirci a nostro agio. In qualche modo c'è un continuo dualismo fra la realtà di tutti i giorni e l'iperbole di quello che viene raccontato. La valigetta è il nodo di tutta la storia perché fondamentalmente è ciò che permetterebbe al protagonista di emanciparsi ed è assurdo che lui nonostante abbia questa cosa da una vita anzi da più di una vita non abbia mai neanche pensato di aprirla. Il fatto di avere la valigetta di poterla aprire o comunque poter vedere cosa c'è dentro, capire che cosa significhi in qualche modo agire attivamente sul proprio destino lo rende finalmente umano e infatti è il momento in cui possiamo finalmente vedere lo sguardo del protagonista che in qualche modo si stai appropiando di stessi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!